buongiorno a tutti allora 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 siamo sempre al ciringhito vi faccio vedere torta al caffè con anche un po di panna cosido di panna che fa bene che così si mischia cappuccino con molto cioccolato e brioche riempita alla nutella eccola qua, riuscita alla nutella integrale perché visto che c'è la nutella ho pensato bene di mettere l'integrale così mi faccio venire fame come sempre perché la mia intenzione è sempre quella farmi venire fame se no non farei questi miglia, torniamo sulla torta al cioccolato anzi al caffè scusate torta al caffè eccola qua cappuccino un cioccolato e brioche alla nutella ciao